Partiamo! Me ne vado! Non credevo che lo Spaventapasseri ce l'avrebbe fatta, ma ci ha dimostrato il contrario. Lo Spaventapasseri è un bled. Sa soltanto parlare. Notizie dall'interno? Niente. Pensiamo che una minima parte del personale sia ancora lì, ma nessuno risponde. La struttura è isolata. Se sono ancora vivi, li troverò. Potranno dirci cosa trama lo Spaventapasseri. Ma che diavolo! Allora, andiamo! Avanzi! Via! 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 A riparo! È ora di morire, vecchio! Nella morte, non deve più temere alcunché. Tenetelo alla larga dalla Ace Chemicals. Avrai la tua vendetta. Finisce tutto stavolta. Finisce tutto stavolta. È un amico tuo? Sta qui e andrò a scoprirlo. Oracol, chiunque sia ha radunato un esercito. Mi serve un nome. Abbiamo delle informazioni da una squadra di servizi segreti in Venezuela. Hanno scoperto una struttura di addestramento con soldati che indossano quello stesso simbolo. Abbiamo solo delle ipotesi su chi li comandasse. Le varie fonti concordano solo sul suo nome. Il Cavaliere di Arkham. Il Cavaliere di Arkham? È creta le comunicazioni. Devo sapere cosa trovano. C'è dell'altro. Degli operai della Ace Chemicals sono ancora sul posto. Ci aiuteranno a rintracciare lo spaventapasseri e la sua bomba. Devo trovarli. Ogni operai avrà un suo chip identificativo. Accedendo all'archivio del personale potrò rintracciarli. C'è un terminale della sorveglianza in una cabina vicino a te. Prova lì. Ci sono cinque soldati. Ognuno armato e pericoloso. Prima di poter accedere al terminale dovrò eliminarli tutti. Ascoltate. Lo spaventapasser dice che la reazione è così completa. L'evacuazione finale della struttura inizierà tra 30 minuti. È iniziato allora. Ti sembrerebbe? Questa è la parte che adoro. L'assalto a sorpresa. Gli elicotteri che arrivano dall'orizzonte e fanno pezzettini liberi. Sai io. E allora come mai non sei su uno degli elicotteri? Mi ha fatto male qualcosa che ho mangiato l'altra. Da state le razioni. Non sto ancora bene. Che sfiga. La più grande operazione di sempre. Io sono sotto la pioggia, fuori da una stupida fabbrica, a cercare di non vomitare. Il comando dice che Batman potrebbe essere diretto qui. Forse avremo di chiudere. Magari lo ammazziamo. Bersaglio perso. Disperdetevi. Controllo se ci sono vittime. Non c'è niente. Magari era solo un ratto. Quanto ci vorrà non possiamo resistere a Batman tutta la notte. Lo spavento a passari farà in fretta. Intanto otteniamo la posizione. Chiaro? Certo. Certo. Che diavolo? E qua ho trovato qualcuno. Sono asserito. Dove sei? Dai comandi del vapore. Ancora un altro. Stiamo perdendo il controllo. Disperdetevi e occhi aperti. Abbiamo ancora la superiorità numerica. Ma lei come le esercitazioni è più veloce. Lasciatelo lì. Dobbiamo pensare a noi stessi. Tutto ok? Lo stocca anche. Deve stare calmo. Ce lo faremo. Uomo a terra qui. L'accesso al terminale è sicuro. Vediamo se Oracle aveva ragione. Connessione dati attiva. Decodifica dati. Qualcuno dovrebbe aggiornare i protocolli di sicurezza. Oracle, ho i codici personali. Se vado in un punto elevato posso usare lo scanner per trovare i lavoratori. Ok. Ti ho segnato sulla mappa la struttura più alta della zona. Non cadere. Non è niente. Un difetto di funzionamento. Ok. Abbiamo finalmente iniziato. Fase 1 attiva. Eh, grazie al cielo. Mi spiace per quei poveracci bloccati sotto terra per settimane. Beh, i fortunati siamo noi, giusto? Zitti. C'è un altro picco di pressione. Dite a qualcuno di dissiparlo. Gruppo 5, un picco alla vostra posizione. Aprite i condotti di... Perfetto. Posso attivare il Batscanner e cercare i lavoratori. Sono riuscita a intercettare una comunicazione radio tra lo spaventapasseri e questo cavaliere di Arkham. Te la trasmetto. Ce l'avevo nel nirino. Potevo chiudere la partita. Non è ancora annientato, ma ci manca poco. No, ho aspettato abbastanza. Batman morirà stanotte. Perché lo odi così tanto? Non sei mai riuscito a capire. La vendetta è vicina. Questa è la sua ultima notte. Me ne occuperò io. Hai idea di chi sia il cavaliere di Arkham? Pare che voi due vi siate già incontrati. Mi sono fatto molti nemici. Mi sono fatto un po' parlare. No, ciselo. Non sono mai riusciti. Decid'altro. Non sono avvolta anche noi. Dobbiamo far resta un po' billion tissues. E sicardi nel nervo permanently. No, non sonoauro di pH predifectje. Ma non sono le classi nove volte. Sono i closesti che gli azion. Anche la tiglia travaillP estaba Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Forza, gotti! 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 Forza! Forza, gotti! 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 Grazie a tutti. 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 Ottimo lavoro. Sapevo che non ci avresti deluso. Non è ancora finita, Jim. Torno a prendere gli altri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Unità RAC, voglio la carica innescata e pronta allo sgancio. Il loro esercito non deve avvicinarsi alla città. Grazie a tutti. 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 e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. ha tutti. persone. Se il gas finisce là fuori, sarà il caos. Non permetterò che accada. Ti tirerò fuori, vai all'ascensore. Jim, il secondo laboratore è a posto. Vengo da te. E lo spaventapasseri? È al miscelatore centrale. Appena i tecnici saranno in salvo, vado a prenderlo. Lì è l'inferno che penso. Peggio, Jim. Ma lo fermerò. Hai la mia parola. Oddio, siamo bloccati. qui. Quest'ascensore è l'unica via di scena ed è andato. Signore, come hai fatto? Lavoro, che importa? Sono soltanto felice di potermene andare. Alfred. Ho visto, Sir. Le prime scansioni indicano che il velivolo non ha pilota ed è telecomandato. blocco armi disattivato. Andiamo avanti, eroe. Vediamo se riesce a tenermi testa. Ho sentito? È solo il primo di una lunga serie. Allora, ci sei ancora un paio? Allora, le cose prenderanno una piega molto più interessante. Forza! Combatti da uomo! Allora, ci sei ancora un paio! A colpo! Mi piacerebbe essere dentro! Ma tu ti tratterresti? Mi piacerebbe essere dentro! Non hai vinto! Stanotte la pagherai! Per ogni cosa! Oracle, Rain sta preparando la bomba nel miscelatore centrale. Mi serve un modo per entrare. Subito! Ci sto lavorando, ma mi servirà ancora qualche minuto. Trovalo, Barbara. La calma è la virtù dei forti. Non lo sapevi? Pare di no. Questi due sono stati fortunati. Gli uomini di Crane hanno ucciso gli altri. Bastardi. Portali alla centrale, ma fai attenzione, Jim. La milizia è in tutta Gotham. Che cosa pensi di fare? Mostrerò a Crane cosa... Oracle, devo arrivare allo spaventapasseri. Non c'è più tempo. Questo non ti piacerà. C'è un solo ingresso e pare che sia stato sigillato dall'interno. E il condotto di servizio? Corre sotto al muro portante della struttura. Ti ho mandato la posizione. Cosa pensi di fare? Improvviserò. Cosa pensi di fare? Cosa pensi di fare? Cosa pensi di fare? La squadra d'assalto è pronta Ora sono con loro La risorsa è cruciale per il mio piano Non mi deludere Io non deludo mai Cosa pensi stiamo tramando? Prima dobbiamo fermare lo spaventapassere Poi mi occuperò del cavaliere La squadra d'assalto La squadra d'assalto Batman, forse ho trovato il punto debole dei blindati droni Indago ancora e ti farò sapere I soldati sono coperti da quella torretta Dovrò eliminarli alla svelta Per non essere individuato Seguite i protocolli Non fatevi spaventare Ma qui da un blindato O un auto Che sembra un blindato Siamo il migliore esercito Mai radunato Mentre lui E' soltanto un uomo Che l'è Batman Siamo tornati sani e salvi al commissariato I blindati sono ovunque Quei bastardi hanno pianificato tutto da settimane Sta lì e fa quel che puoi Jim Vi affronterò una volta sventata l'esplosione Contiamo tutti su di te Batman Ce la faremo anche stavolta Lo so Scusiamo Azzuccare unità Evacuare l'impianto Ace Capricorn Ripeto Ordine di evacuazione definitiva Chi rimarrà indietro Farà una piliatoria Delicante Oversi Ascoltate Mi hanno appena riferito Che la fase 1 è completa Proprio ora il nostro cliente Si prepara a inghiottire la città intera In una nube di gas Ricordate l'addestramento Maschere antigas inutili Respiratori inutili Solo due cose vi salveranno Andare sotto terra O tanto in alto Da sovrastare la nube L'esposizione alla tossina Causa gravi psicosi E in casi estremi Autolesionismo Vi è stato assegnato un punto di ritrovo Raggiungetelo Lasciatelo a me Prendi questo Restate sul d'esaglio Per forza Prendetelo Spicchiatelo Per forza Prendetelo Lasciatelo a me Il resto sono State sul d'esaglio Spicchiatelo Addosso la città Trovate la terra Lasciatelo a me Sarà d'aiuto Non sprecarlo Me ne resta solo uno Fare meglio Fermatelo È mio Spicchiatelo Ficchiatelo Spicchiatelo L'esposizione Lo sto rianimando Arrindelo Per mettermi in piedi Grazie Restate sul d'esaglio Attoso Cuate l'esaglio Restate sul d'esaglio Attaccate alle spalle! Vatelo fuori! Che cavolo! Va male! Versaglio Alpha, alla vittoria! Ho appena lanciato una simulazione basata sulla capacità del miscelatore. Non sta bluffando, Bruce. Ora sappiamo perché ha fatto evacuare la città. Voleva il controllo della fabbrica. Solo alla Ace Chemicals si può costruire una bomba di queste dimensioni. Le conseguenze saranno in mani. Abbiamo fatto il suo gioco. La fuga dei cittadini era aersa. Sapevo che nessuno sarebbe sfuggito al raggio dell'esplosione. Per poter usare l'auto devo farla arrivare in questa zona. La notte... Diverrà una landa maledetta dagli inti. Simbolo cadente del fallimento di Batman. Un monumento alla paura. Ma soprattutto... Faremo di Gotham l'epicentro di un'esplosione che trasformerà l'intera costa orientale americana nel mio regno. A presto.